Quell'attimo, quel frammento di un improvviso silenzio che passa lentamente, come una pausa del primo atto si chiude il sipario, cominciano gli afflazzi, gli spettatori sono in delirio, prima l'artista ho cercato, vieni di meno, carissimo maestro vi posso dare, posso fare complimenti, non ho potuto fare un bene, ah ma Mario dei Bagaria, si della compagnia di Arara, grazie, permettete se mi accolgo, ma si faccia avanti, ma si segga, vi ringrazio gentilissimo, stavo scrivendo, giusto un minuto perché mi avete visto che sto lavorando, un minuto, un minuto, ah stavate lavorando, non sembra, ah non sembra, infatti io scendo così e poi si vengono in un matrimonio, ah eh, e vatti se vede, ma c'è tuo pescatore, no, pescatore stamattina infatti, si pesca poca roba qua, il mare è agitato, scusate, ma uno vestito così, che può fare? Per me lo pescatore, lo pescatore, hai già capito, lo pescatore, lo pescatore, scusate, ma che lavoro faccio? Secondo voi vestito così? Il netto urbino, ah siete un artista, io ve lo devo, permettete che vi stringo la mano? Sì, Pasquale, ah ti sapete pure il nome mio, Pasquale un netto urbino, classico napoletano, complimenti, come vi dicevo, permettete che, ho visto che siete un artista, posso, posso dire? No, mi dica, mi dica, vi mantenete ancora sulla penna, calamaio, carta e cosa? Tutto cuore, cuore, foglie e penna, permettetevi, oggi la gente, oggi cosa sono cagnato, oggi la gente va a trovare nei social, voi state scritte a Facebook, Instagram, Whatsapp, ehi, ma che è con te? Tenetelo picciono viaggiatore, qualcosa, come comunicare? Stai con me? Ancora con la carta e penna, è a pulito arrivare. E cuore, tanto cuore. Ah, sicuramente, sicuramente. Guardi tu, cardiologo? Guardiologo. Guardiologo. Sentitemi, non mi vedete in questi panni, perché io a quest'ora dovevo stare in Inghilterra, credetemi. A fa che? Vicino a Reggine. No, avevano offerto un guaglione laureato, ma avevano offerto un posto come lavabbiatti. Bravissimo. In Inghilterra si fa sempre, l'italiano che va a fare là? E' un luogo comune. Voi meritate molto di più. Ma avevano offerto pure un posto a McDonald's. Alla fine ho accettato questo qua, perché a me mi piace la natura, mi piace stare l'aria aperta. Ah, libertà, libertà. Tornando a noi, non vi voglio rubare altro tempo, scusatemi. Mi dica, mi dica. La cucinella di caffè, se stessi premigliano il caffè, posso? Scusatemi, scusatemi. E' buonissimo, veramente, il caffè dell'artista. No, non lo so, il caffè di Pasquale non lo so. Come vi dicevo, permettetemi cosa, voi fate fare un'iscrizione proprio a Facebook. Oggi la gente, io già ve l'ho detto pure nell'altro video, vi manca otà. Ah, vi ricordate? Mi ricordo. Otà, 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 è questo quello che manca. Otà, otà, otà. Oggi aprite Facebook a mattina rapida a gente arabe, poveri che ha fatto quello che ha fatto, che ha fatto l'amicizia, i caffè, i caffè, i caffè, i caffè. Oggi la gente vive sui social, un like, la visualizzazione. Oggi funziona così, e voi scrivete questi versi, vi rimane una coppa di carta. Credetemi. Sentite, ma perché non mi ha dato uno a voi? Non mi insegnate. Pago. Pago. No, con la K. Rimaniamo la C. Con la C? Si. La C che è un contatto sempre di... Rimaniamo nell'italiano perché comunque... Pago. L logo. L logo con due L. Due L. Logo. L logo. L logo. L logo. Attanasio. Giusto? Scrivete i versi. Mi scrivo un nome e state a tre o. Attanasio. Mi posso dare qualche dritta, veramente, credetemi. Ora devo scappare. Sentite, mamme. No, ma figuratevi. Ma potserà andato dalla mano? Eh, no, no, no. Facciate un gusto, veramente. Quando mi venga un artista, c'è la macchina. E' più forte di me. Facciatevi a sentire. Facciatevi a sentire. Facciatevi un bello profilo Facebook e mi ringrazierete, veramente. Sì, strunzate. Sì, poi sì. Così, scrivi. Questi versi qua. Vi farò vedere. Gente che comunque mi like. Veramente. E io vi saluto perché devo continuare. Eh, no, ma figuratevi. Figuratevi. Mi posso stringere ancora la mano? Permettete? Ma ci maniate. Ci maniate. Finisco di lavorare. Permettetemi. Era giusto. Da cosa a cosa. Non fa niente. Ma figuratevi. Il nome ve l'ho dato. Eh, lo leggerà. Vi stringo ancora la mano? Sì. Mario Santoro. Mario Santoro. Complimenti. 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 Se ci ha accisato saluto però. A dicere la verità. Chi se te ne ha ragione. Ma va a fare un culo tu. I poesie che ti è viva.